Ciao da Avsim, sacrifichereste Miralem Pjanic? Sareste favorevoli ad una sua cessione? Parliamo di questo. Ho già avuto modo di dirvi che non ha senso parlare di mercato in entrata della Juventus se non sappiamo chi sarà il prossimo allenatore. E non ha senso parlare di mercato in entrata se resterà Allegri soprattutto, perché Allegri ha già dato ampia dimostrazione di non valorizzare i giocatori, di non costruire la squadra in base alla rosa che ha per valorizzare i singoli e far rendere al meglio il gruppo. Di conseguenza possiamo immaginare di acquistare pure Neymar e Messi, non cambierebbe nulla, rimarremmo sempre con una squadra che non esprime al meglio il suo potenziale. Non è cambiato nulla con Cristiano Ronaldo, fate un po' voi. Quindi mi limito a parlare eventualmente di mercato in uscita o di ipotesi di mercato in uscita partendo da alcune considerazioni. Una su tutte il fatto che la Juventus probabilmente ha bisogno di fare cassa, ha bisogno di monetizzare, di fare liquidità per poter fare appunto degli investimenti sul mercato. Quali sono gli investimenti in entrata quindi che la Juventus ha necessità di fare? Sicuramente un difensore centrale ma pure due, perché dobbiamo ricostruire la difesa o meglio costruire la difesa del futuro, sfruttando il professor Barzagli che forse entra nello staff, ma soprattutto gli ultimi due anni di Chiellini. Lui ha detto che due anni rigiocherà ancora circa, poi vedremo come andrà, speriamo anche tre per carità, che dia sempre il massimo e sempre il meglio, ma non è eterno e quindi dobbiamo sfruttare la sua presenza ancora nella squadra per far crescere i difensori del futuro, che ancora non abbiamo individuato e quindi bisogna comprare in difesa. De Ligt costa tantissimo, alternative più economiche ci sono come Manolas, ma non parliamo certo di un giocatore giovane che può acquisire un bagaglio particolare da Chiellini e quindi diventare un difensore fortissimo. Sarebbe, diciamo, Manolas un giocatore di buon livello ma non è il salto di qualità in difesa e poi ci sono pochi altri nomi, ma senza entrare nel discorso difesa c'è da dire soprattutto che la Juventus deve migliorare dannatamente a centrocampo, perché da quando se ne è andato Paul Pogba non siamo riusciti minimamente a sostituirlo. Non è stata fatta programmazione sportiva adeguata per rimpiazzare Pogba. Gli acquisti che sono stati fatti non sono stati appunto in quest'ottica, hanno tenuto ad un certo livello il centrocampo senza mai fare questo salto di qualità che aspettiamo e di cui avremmo bisogno anche per dire la nostra un po' meglio in Europa. E poi eventualmente ci sarebbe da acquistare un attaccante. Io spero sempre in Joao Felix, anche se costa tantissimo, ma appunto poi vedremo perché Joao Felix in mano ad Allegri secondo me si brucia in negativo e quindi meglio sperare che venga un allenatore in grado di far crescere questi talenti e poi si vedrà. Però appunto, chi sacrifichi per fare cassa? La mia speranza in ogni caso è che non venga ceduto Dybala. Che sia per sacrificio o per scelta tecnica non cambia. Per me Dybala deve restare perché voglio vedere Dybala con un altro allenatore, con la maglia della Juventus addosso, cosa sa fare, cosa può fare e quali sono veramente le sue potenzialità inespresse. E poi perché Dybala secondo me è un vero talento, è un giocatore molto forte e privarcene adesso così sarebbe una cosa stupida, sarebbe come buttarsi la zappa sui piedi secondo me. Non sarebbe positivo, sarebbe una scelta negativa. E quindi chi va a sacrificare? Devi pensare ad un altro nome che può avere mercato e che ha una buona, anzi ottima valutazione. E allora il nome può essere Miralem Pjanic. Fate queste premesse, quali sono i vantaggi di vendere Pjanic? Intanto va detto che Pjanic in questo momento, fonte Transfermarkt, è il secondo mediano più prezioso al mondo. Vale 70 milioni alla pari di Casemiro, 5 milioni in meno di Busquets che è primo. Quindi il mediano più costoso è Busquets, 75 milioni al secondo posto c'è Pjanic. Intanto dobbiamo considerare che Pjanic è considerato un mediano e questa non è una cosa scontata. Perché vi dico che Pjanic ha giocato ben 82 partite nella sua carriera da trequartista, almeno sulla carta, sempre fonte Transfermarkt, di queste 82 solo 10 con la maglia della Juventus in tre stagioni. 72 tra Lione, Metz e Roma. Quindi capite che comunque nel passato Pjanic giocava più avanzato, ma lo sappiamo bene. Non c'è neanche bisogno di andare a vedere queste statistiche. Quindi è diventato mediano con la Juventus. Ora è stato valorizzato o è stato svalutato? Sicuramente è stato valorizzato perché Pjanic, quando lo abbiamo acquistato nel luglio del 2016, aveva una valutazione di mercato di 38 milioni. Anzi, se non vado errato, in realtà Pjanic ce l'abbiamo preso, sì nel luglio del 2016 esattamente. Aveva una valutazione di 38 milioni di euro e aveva 26 anni. Di conseguenza la sua valutazione è praticamente raddoppiata perché da 38 a 70 con la maglia della Juve addosso è praticamente raddoppiato il suo valore. Tra parentesi è il quarantesimo giocatore più prezioso al mondo, il sesto in Serie A e il terzo della Juventus, dietro quindi Ronaldo e Dybala. Nato il 2 aprile 90, quindi ha 29 anni adesso. E di conseguenza questi sono tutti dei parametri che ci dicono che Pjanic può avere mercato. Ma può avere mercato anche per un altro motivo, proprio per la sua duttilità tattica, se così possiamo dire. Si è parlato tante volte di Juventus che ha fissato il prezzo di Pjanic, 100 milioni, Barcellona è interessata a Pjanic, altre squadre, forse anche il Real Madrid. Si è parlato tanto del mercato di Pjanic. Ripeto, io non sono per buttare via Pjanic, per vendere Pjanic. Me lo tengo volentieri perché secondo me è un gran giocatore. Non ci ha fatto fare il salto di qualità in Europa, questo è chiaro. Ha conferma del fatto che quando vai a comprare giocatori in Italia, soprattutto se li prendi in modo facile, con clausola recessoria, cresci in Italia ma non cresci in Europa. Però è un ottimo giocatore che io vorrei collocato in posizione diversa. Non deve fare il mediano, secondo me, perché non sa difendere o difende molto male. Deve stare più avanzato. È vero che non ha il cambio di passo del centrocampista box to box, ma proprio per questo sulla tre quarti giocherebbe molto bene. Come probabilmente giocherà Ramsey la prossima stagione, o almeno si spera, perché se poi resta Allegri e Ramsey diventa mediano pure lui, io onestamente ci rinuncio. Quindi questa è la mia speranza, tenere Pjanic avanzandolo, facendolo giocare nella posizione a lui più congeniale che non è questa dal mio punto di vista. Poi che si sia molto valorizzato in termini di valore di mercato in questi anni giocando mediano è una certezza, è una verità, è indiscutibile. Ma può darsi che questo sia avvenuto anche perché gioca in una Juventus che sta vincendo tanto, ha giocato anche una finale di Champions, Pjanic. Quindi non c'è grande ricchezza e tante alternative in quel ruolo a livello mondiale e quindi anche per questo la valutazione di Pjanic è cresciuta. Ma davvero non c'è un giocatore migliore di lui in quel ruolo? Davvero dobbiamo considerare Pjanic imprescindibile? Ripeto, anche non vendendolo, comunque si può cambiare e migliorare il centrocampo prendendo qualcun altro che interpreta meglio quel ruolo. Per me il mediano migliore che abbiamo è Emre Can e dovrebbe giocarci lui lì e magari spostando Pjanic più avanti. Ma se hai necessità di fare cassa vendi Pjanic per il quale puoi spuntare tranquillamente, ma tranquillamente, 100 milioni se veramente ci sono squadre interessate a prenderlo e secondo me ce ne sono. E a quel punto una parte di 200 milioni li investi per il centrocampista, l'altra parte per il difensore. Per il centrocampista io vi ho già parlato. Secondo me il giocatore più da prendere di tutti è Tanguin Dombele. Dombele del Lione, ogni partita che fa e che ha fatto anche in questa Champions non ha fatto altro che confermare il suo grandissimo talento e le sue grandissime qualità. Guarda caso sarebbe un altro giocatore del Lione che viene poi da noi, Pjanic è passato prima per la Roma, Dombele passerebbe direttamente da noi. In alternativa un altro giocatore molto forte da prendere a centrocampo è Ruben Neves del Wolverhampton. Tra virgolette trattativa più facile, però secondo me Dombele è più forte. Ovviamente queste sono le mie pretese richieste da tifoso, poi c'è in società chi sa fare valutazioni infinitamente migliori delle mie e sa il fatto suo e come gestire la cosa. Però dobbiamo partire dal presupposto che se ci serve, se può servirci sacrificare Pjanic per fare il salto di qualità a centrocampo, allora sacrifichiamo Pjanic. Io questo diciamo è la mia opinione, non solo la vostra e quindi vi lascio come sempre lo spazio dei commenti per le vostre considerazioni. Ripeto, la domanda è sacrifichereste Pjanic, ve ne privereste per fare il salto di qualità a centrocampo? O pensate che senza Pjanic il salto di qualità non si può fare e che è un giocatore fondamentale per questa Juventus? Commenti qui sotto, like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se il canale vi piace e quello che vi porto, vi offro, è di vostro interesse e nel caso attivate anche la campanella delle notifiche. In descrizione trovate tutti i link per seguirmi su tutti i miei social, in particolare seguitemi su Instagram, ci vediamo presto e sempre Forza Juve!